Sono 21 convocati, 11 giocheranno e gli altri andano in panchina, uno in tribù. Cocco non è convocato. Non è convocato, sta bene, ma non è al 100%, più che altro lo vedo un po' condizionato dall'infortuno che ha avuto. Condizionato nel senso che ha, secondo me, ancora un po' di timore nell'appoggiarsi, nell'usare il braccio. E quindi, siccome ne ho altre disposizioni che stanno bene, io preferisco sempre avere un giocatore al 100% che possa fare sicuramente meglio. Ho 5 attaccanti convocati, due di questi giocheranno, uno è Caprari e l'altro vediamo. I problemi non li abbiamo solo noi, li avrà anche il Livorno, quindi non dobbiamo crearci alibi. non è che andiamo a giocare a Livorno con zoppi e mutilati, andiamo a giocare a Livorno con 20 giocatori che stanno bene e 11 giocheranno e quelli che vanno in campo sono al 100%. Ho letto da qualche parte che tanti titolari non ci saranno, questa non è una verità perché non è detto che quelli che non ci stanno siano poi tutto l'anno titolari o sono titolari. Per me titolari sono tutti, nel senso che è una rosa che ho scelto, che ho voluto e dato che il campionato è molto lungo c'è bisogno di una rosa ampia, una rosa competitiva, io credo di avere i giocatori in ogni reparto altamente competitivi e quindi servono tanti giocatori per sopperire appunto a queste emergenze. Zuparic non lo so perché ancora non ho deciso, però giocherà centralmente.